un caro saluto un caro saluto a tutti da Diego Fusaro vi è una notizia degna della massima attenzione che compare su ansa.it in data 20 marzo 2023 quindi una notizia di oggi che quindi merita di essere discussa a maggior ragione con urgenza spiega ansa.it che è stato approvato un piano europeo da 2 miliardi di euro per le munizioni a Kiev ripeto con attenzione 2 miliardi di euro per munizioni a Kiev il piano dell'unione europea risulta approvato lo dice ansa lo dicono i professionisti dell'informazione quindi si va evidentemente nella direzione della continuazione delle ostilità dove l'unione europea continua a fare la parte subalterna di colonia di washington e poiché washington ha deciso che l'unione europea deve mandare armi e piegarsi alla volontà stelle strisce e al suo imperialismo ecco che l'unione europea prova e approva a tutto ciò che washington impone washington comanda bruxelles esegue sull'attenti prendendo ordini come il soldato semplice dal sergente due piccole notazioni dunque una l'abbiamo già di fatto accennata la notazione quella secondo cui la guerra continua e l'europa ormai è tutta implicata in questo conflitto avrebbe dovuto per orare le ragioni della pace della diplomazia del dialogo invece da subito ha scelto sciaguratamente di aderire alle ragioni delle armi e quindi alla conflittualità senza tregua dalla parte di washington e del suo imperialismo questa è la prima notazione che merita di essere sviluppata non si parla nemmeno più di pace e di possibili accordi diplomatici si parla ormai soltanto di vittoria della guerra dando per scontato che la guerra finirà se e solo se una parte vincerà sull'altra seconda notazione a quanto pare l'unione europea quando deve trovare i soldi per le banche o per le armi da destinare a chi e li trova sempre puntualmente e anche questo non deve sfuggire da che la stessa unione europea quando si tratta di aiutare i ceti medi sofferenti o i lavoratori sempre più precarizzati e condannati al supplizio del neoliberismo cosmopolita non trova mai il becco di un quattrino anzi dice che erano i lavoratori abituati a vivere al di sopra delle loro possibilità e ora devono convertirsi al principio di realtà peccato che poi la stessa unione europea quando si tratta di trovare fondi per le banche o per le armi da inviare a chi e come ricordavamo poc'anzi li trovi sempre con sollecitudine e non passa mai occasione senza che li trovino in questo caso addirittura due miliardi di euro per le munizioni a chi e quindi due miliardi per andare a combattere per generare morte e caos questo è il punto fondamentale e dove sono gli oppositori perché le sinistre e le destre tacciono e anzi sono favorevoli rispetto a questo scempio